Bon sier, bonjour! Ecco un multiplo e buon assaggio di bottoncini di pane alla banana con il gorgonzola! Oh la la! Sono botton banana liziosi! Pollice in su! Ui boh, visto? Siamo al primo posto! È una cosa mu-eravigliosa! Guardate chi rientra in gara! Topolino e Pierre! E hanno delle forme di brin come ruote! Ma reggeranno fino alla fine! Spero che Roby piaccia il nostro nuovo piatto! Spostati Torre Eiffel e fa largo alla nostra magnifica torre di waffle con pretzel al Camembert! Ma è favolosa! Un torreggiante pollice in su! Oh, bene bene! Ed ecco qui il nostro piatto! È un super buonissimo quack messier! Voi mi fate ridere a crepo pelle! Pollice in su! Tocca a noi, Chef Pierre! Prego! Et voilà! Vi presentiamo un eclair extraordinaire alla Topolino e Chef Pierre! Servito in stile hot dog! È dolce! È saporito! È davvero perfetto! Un gustoso pollice in su! Grazie! Grazie! Topolino e Pierre sono di nuovo in gara! Ma non finisce qui! Devono vendere tutti i 10 ordinazioni e poi correre a tagliare il traguardo! Pommes frites, tutte e suite! Vieni a mangiare qui! Vieni a mangiare qui! Buongiorno, Paris! Ma come va? Il cibo che c'è qua è una bontà! Buongiorno, Paris! Come un talibu? Che buon! Cuisine! Vieni anche tu! Buongiorno, Paris! Che vuoi di più? I furgoni ristorante hanno venduto i loro piatti! Perciò adesso preparatevi a una corsa sfrenata verso il traguardo! Perché tutti partecipano per vincere! Altre quattro porzioni di bottoncini, s'il vous plait! Subitissimo! Oibo, Clarabella! Se continuiamo a vendere in questo modo non finiremo mai la corsa! Oh, beh, non si può vincere in tutto, Pippo! E poi come facciamo ad andarcene? Alla gente piacciono tanto i nostri bottoncini! Questa sì che è una sorpresa! Pippo e Clarabella lasciano la gara ma conquistano il cuore di Parigi! Svolta, Minnie! Ecco laggiù la Torre Eiffel! E anche il traguardo! Wow! Accidenti, è tutto bloccato! Minnie e Paperina sono imbottigliate nel traffico, quindi fuori gara! Oh, oh! Che mi dici del topo e dello chef? Oh, sacro bleu! Le ruote si stanno sbriciolando! Neanche questo ci fermerà! Prendi il volante! I cuochi tornati in gara sono nei guai! Eccolo un'arma segreta! Panna montata! Oh, la la gente! E' un finale con patatine fritte! Topolino e lo chef Pierre vincono il rally dei Borgoni Ristorante! Topolino e gli amici del rally a Disney Junior! Topolino e gli amici del Ristorante!